Salve a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Maria Chiara e qua si parla di libri, libri che scrivo, libri che leggo, libri che vorrei comprare, libri a 360 gradi ed è direttamente collegato col mio book blog L'arte dello scrivere forse che potete trovare su Tumblr. Mi raccomando visitatelo perché lì potrete trovare tutte le recensioni di tutti i libri che leggo e tutte le liste di libri che preparo per voi. Oggi ho preparato una lista di libri in particolare sull'argomento loop temporale o anello temporale, cioè abbiamo dei protagonisti in questi romanzi che rivivono continuamente o lo stesso giorno o lo stesso periodo di tempo. Il confine tra romanzi con loop temporali e romanzi con viaggi nel tempo è sottile ma distinguibile, ok? Quindi ho escluso dalla lista i libri con viaggi nel tempo che vedevano le persone protagoniste tornare indietro più volte, magari nello stesso punto, però anche andare avanti nel tempo, poi andare avanti e poi andare indietro. Li ho esclusi anche se potevano somigliare leggermente a dei loop temporali, secondo me non lo erano. Sono stata molto sul tema del film Il giorno della marmotta con Bill Murray, dove il protagonista riviveva continuamente lo stesso giorno. Sono stata molto su quel tema o sul tema del film Edge of Tomorrow con Tom Cruise. Infatti ho incluso nella lista il libro da cui è stato tratto quel film, tra l'altro. Inoltre ho anche cercato di includere nella lista soprattutto dei titoli disponibili in italiano anche e un po' di ogni genere, perché diciamo che tutti i generi letterari più o meno hanno usato l'espediente del loop temporale prima o poi qualche autore, quindi c'è veramente l'imbarazzo della scelta. La lista non è troppo lunga, non è troppo corta, ma sono cercata di tenermi insomma sul numero base. Ho incluso anche qualche titolo inedito in italiano. Comunque se volete che faccia magari più avanti un'altra lista gemella di questa con altri titoli, ce n'è tantissimi, quindi poteva essere molto più lunga e posso fare una seconda parte a questo video senza alcun problema. Però intanto partiamo con questa lista. Mi sembra giusto partire col genere letterario che sicuramente ha sfruttato di più i loop temporali, che è naturalmente il genere fantascientifico e uno dei romanzi che per primo, quasi da pioniere, ha affrontato questo argomento, a detta di tutti è Replay Una vita senza fine di Ken Greenwood. Allora, in questo caso abbiamo un uomo di 40 anni, 42-43, ok? Intrappolato in una vita che trova noiosa, di routine, eccetera, che un giorno muore, se non mi ricordo male, di infarto, ok? E quando muore invece di trovarsi un paradiso all'inferno o chissà dove, torna nel passato, ai tempi dell'università e inizia a rivivere la sua vita da capo dai tempi dell'università. All'inizio questa cosa non è neanche male, no? Perché può provare tante alternative, fare delle scelte diverse e avere delle vite diverse. Però continuare a morire per poi tornare indietro dopo un po' diventa un pochino stancante e noioso e anche drammatico perché comunque lui si affeziona alle persone per poi continuare a vederle morire o a vederle andare via. Quindi inizia a porsi delle domande, ma sono solo io che ho questo potere? Perché io? Perché sta succedendo proprio a me? E trovo un'altra persona come lui che sta vivendo il replay della propria vita, ok? Una donna. I due intraprendono tra l'altro una relazione, ma la cosa naturalmente non è semplice perché ad un certo punto si accorgono che questo loro potere di tornare indietro e di rivivere le loro vite sembra stia cercando di separarli perché i loro replay non iniziano mai allo stesso modo. Il tempo a cui loro tornano indietro diventa sempre più breve, quindi rivivono sempre meno tempo della loro vita e cercano di trovare il modo almeno per riuscire o a morire insieme o a rinascere insieme o a vivere finalmente un'ultima vita insieme. Il libro è veramente interessante, l'idea è molto ben resa e è più dinamico di quello che ci si potrebbe aspettare in un romanzo dove si continuano a rivivere le stesse cose proprio perché ad un certo punto c'è una specie di indagine, una specie di tentativo di cambiare lo status quo e il lettore è molto libero di farsi tutte le sue teorie eccetera eccetera. Molto molto affascinante come romanzo, sicuramente forse uno dei primi con un vero e proprio loop temporale come protagonista della storia. Molto famoso è anche un romanzo breve di Richard Lupoff che si intitola Mezzogiorno e un minuto 12.01pm. Questo racconto breve sono stati tratti anche diversi film, anche film per la televisione. Questo è molto carino come idea perché c'è un uomo che continua a rivivere la stessa ora, cioè da mezzogiorno a luna, questo è il suo time loop. Naturalmente questo non è molto piacevole perché è un déjà vu all'ennesima potenza continuare a rivivere la stessa ora, allora questo povero uomo cerca una teoria scientifica che possa descrivere quello che gli sta succedendo, scopre che c'è uno studioso, un fisico che ha teorizzato qualcosa di simile e cerca di contattarlo durante questa sua ora di loop. Non vi dico come va a finire eccetera eccetera, comunque è un romanzo breve o un racconto lungo, insomma guardatelo come volete voi, che comunque ha molto affascinato gli americani che gli hanno dedicato veramente diverse trasposizioni cinematografiche. Adesso però passiamo a un altro genere e parliamo di le prime 15 vite di Harry Auguste di Claire North. Qui abbiamo un uomo, anche qui, che ogni volta che muore rinasce esattamente nello stesso luogo e nello stesso anno, un potere o una condanna. Quindi Harry in questo modo cerca di vivere vite diverse, ma anche qui dopo un po' questo potere diventa pesante da sopportare. Ma ad un certo punto gli viene comunicato da una bambina che questo potere gli è stato dato perché alla fine del mondo sta arrivando e lui deve salvarlo. Lui ha in realtà una missione per cui deve utilizzare questo potere e seguiamo quindi Harry nelle sue prossime 15 vite che cerca di capire come salvare il mondo da diversi indizi, da diversi momenti storici che rivive e praticamente è tipo un giallo all'interno di questo romanzo di narrativa invece generale. Un romanzo veramente molto molto ricco di contenuti, ricco di eventi storici, veramente veramente pregno di temi interessanti che quasi sovrastano il tema del loop temporale. Cioè io trovo che questo romanzo ad un certo punto diventi qualcosa d'altro. Cioè il loop temporale non è al centro della trama. Al centro della trama c'è Harry August ma c'è l'umanità, l'uomo, le caratteristiche dell'uomo all'interno della storia e al di fuori della storia, ok? Quindi veramente un libro interessante ma dove il loop temporale è solo una parte della trama, non al centro della trama. Allo stesso modo le sette morti di Evelyn R. Castle di Stuart Thornton, anche qui siamo davanti a un giallo primariamente, ancora più che con le prime quindici vite di Harry August, dove raggiungevamo quasi più le caratteristiche di un romanzo storico ad un certo punto quasi. Con le sette morti di Evelyn R. Castle di Thornton siamo proprio in un giallo, in un giallo classico, abbiamo una misteriosa e maestosa residenza di campagna, ok? Di una famiglia altolocata, membri della società che invitano a una festa, a un anniversario se non mi ricordo male, altri membri dell'altra società, banchieri, medici eccetera. Ma non sono degli invitati qualunque, sono degli invitati che erano già stati invitati vent'anni prima a un altro ricevimento dove era morto un membro di quest'altolocata famiglia. E anche in questa nuova serata con gli stessi ospiti muore la figlia più giovane dei due ospiti. E uno degli ospiti, in particolare Aiden Bishop, si ritrova a rivivere giorno dopo giorno l'omicidio di questa ragazza e ogni giorno si risveglia nel corpo di un ospite differente e nei panni di queste persone lui cerca di scoprire il colpevole dell'omicidio perché crede che sia l'unico modo per rompere questo lupo temporale in cui si ritrova intrappolato. Ma non sarà facile perché molti degli ospiti presenti avevano dei motivi o avevano dei coinvolgimenti segreti con questa famiglia. Quindi sarà un'indagine molto difficile anche perché lui si trova sempre all'interno di persone diverse, non nel suo corpo e quindi è legato anche alle circostanze della sua rinascita ogni giorno. E' molto molto carino come romanzo, anche l'idea è molto innovativa ed è un modo di vedere il loop temporale al servizio di un'indagine gialla classica che dà un sprint, che dà quindi uno sprint diverso a quella che dovrebbe essere una classica trama di un giallo in stile inglese. Molto molto interessante e molto molto bello, certo se vi piacciono i gialli perché anche qui il loop temporale è al servizio di una trama di un giallo, di un mystery. Allo stesso modo anche il genere thriller ha usato il loop temporale e vi porto ad esempio il romanzo Posto sbagliato, Momento sbagliato di Gillian McAllister. Siamo nei suborghi di Liverpool, una madre affacciata alla finestra poco dopo la mezzanotte della notte di Halloween sta aspettando che suo figlio diciottenne torni a casa, perché sapete i genitori sono sempre preoccupati. Non è tornato entro l'ora in cui di solito torna e quando lo vede dalla finestra che finalmente è nella via dove si trova la loro casa, tira un sospiro di sollievo, ma questo sollievo si trasforma in terrore quando vede suo figlio uccidere con un coltello una persona proprio davanti ai suoi occhi per la strada e in quel momento sua madre ha chiara una cosa prima di tutto, che non sa veramente chi è suo figlio e che si è rovinato la vita in quel momento. Succedono varie cose, a un certo punto la madre si addormenta, quando si risveglia rivive di nuovo lo stesso giorno e ha la possibilità di impedire a suo figlio di commettere l'omicidio che gli rovinerà la vita. Ma presto, man mano che continua a rivivere questo giorno, la madre si rende anche conto che deve capire le origini di quel gesto e capire soprattutto quello che suo figlio le ha nascosto per tutti questi anni per giungere a capire le motivazioni che lo avevano spinto a quell'omicidio. Oltre al genere thriller, anche il genere horror thriller ha usato l'espediente del time loop e vi cito ad esempio Neverworld di Marisha Pesl. Qua abbiamo un libro che parte da una premessa tipo il film So cosa hai fatto l'estate scorsa. Quindi abbiamo un gruppo di adolescenti che durante gli anni del liceo ha subito una grave perdita. Cioè uno di loro è scomparso. Quando si ritrovano anni dopo è logico che tutti nascondono qualcosa e quindi non sono molto felici di rivedersi. In particolare Bea, che era la fidanzata di Jim, appunto il ragazzo morto tanti anni fa, non voleva trovarsi a questa riunione con i suoi ex amici e aveva ragione. Infatti durante la notte si ubriacano eccetera, quando si risvegliano un uomo misterioso bussa alla porta e gli annuncia che in realtà sono tutti morti, o meglio, sono tutti quasi morti, incastrati tra la vita e la morte, prigionieri di una specie di limbo in cui il giorno che hanno appena vissuto continuerà a ripetersi ancora e ancora, ogni loro risveglio, finché non decideranno chi di loro si salverà, perché solo uno di loro si salverà e potrà tornare alla vita normale. Tutti gli altri devono morire e saranno loro a decidere chi di loro deve sopravvivere. Qui siamo ai confini tra il giallo, il mister, il horror, il teen movie, un libro veramente all'apparenza banale, che parte da un presupposto abbastanza banale, abbastanza già visto, ma si evolve in qualcosa di più e comunque riesce a tenere aggrappato alla suspense il lettore abbastanza, utilizzando appunto il loop temporale in modo diverso dal solito. Parliamo di cose diverse dal solito, non posso appunto non citare il romanzo da cui è stato tratto il film Edge of Tomorrow con Tom Cruise, che è un sci-fi con gli alieni. Gli alieni hanno invaso la terra, si chiamano Mimic, sembrano indistruttibili, ma un giorno un soldato giapponese, in questo caso perché è un romanzo giapponese da cui è stato tratto il film, muore in battaglia contro questi alieni e comincia a rivivere lo stesso giorno, ancora e ancora e ancora, e durante questo ripetersi del giorno scopre cose nuove sugli alieni, diventa sempre più bravo a combattere e scopre anche che non è il primo a cui è successa questa cosa. Una soldatessa molto famosa aveva già avuto questo potere prima di lui e insieme decidono di tentare di salvare l'umanità dall'invasione aliena, sfruttando questa cosa. Il romanzo, appunto, è il romanzo giapponese e si intitola All You Need Is Kill di Hiroshi Sakurazaka ed è il romanzo da cui è stato tratto il film Edge of Tomorrow con Tom Cruise, che a me personalmente piace tanto, ma non è mai stato tradotto in italiano il romanzo, però è disponibile in italiano edito da Panini il manga che è stato tratto da questo romanzo giapponese e il manga potete leggerlo in italiano e racconta comunque la stessa storia. Poi abbiamo, diciamo, i romanzi un tantino più semplici, più romantici o più leggeri che hanno utilizzato il tema del loop temporale, anzi, passiamo da uno che non è molto leggero, però allo stesso tempo lo è, e si intitola Prima di domani di Lauren Oliver. Qui abbiamo una ragazza del liceo, se non mi ricordo male, o primo anno di università, comunque abbastanza giovane, che ha tutto quello che potrebbe desiderare. Un bravissimo fidanzato che la ama, delle amiche fantastiche, è popolare, però un giorno muore tornando in macchina con le amiche, si risveglia e continua a rivivere continuamente il giorno della sua morte, non riuscendo a evitare l'incidente, perché se lo evita muore qualcun altro di lei a molto caro, quindi deve compiere delle scelte molto difficili. Il romanzo è al confine tra l'essere romantico, dolce e leggero ed essere un po' drammatico, perché appunto c'è il problema del fatto che lei continua a rivivere la sua morte e non riesce a evitare la sua morte. Però siamo già in un filone più leggero, che usa il loop temporale. Romanzo molto drammatico in alcune parti, ma allo stesso tempo molto semplice, molto leggero, scritto in un stile adatto anche a uno young adult. Esistono dei romanzi molto più leggeri, molto più easy, che trattano di loop temporali. Uno di questi è sicuramente Ogni prima volta di Justin Reynolds. Anche qui in realtà c'è il tema della morte, perché il protagonista, anche qui è un ragazzo molto molto giovane, che non so se ha appena cominciato l'università o appena finito lì, superiore più o meno, incontra una ragazza a una festa. Lui è, diciamo, il classico ragazzo che non è mai stato troppo popolare, non è mai stato troppo figo, non è mai stato troppo intelligente. Era un ragazzo qualunque, che non è mai riuscito a ottenere veramente il successo che avrebbe voluto nella sua vita scolastica o nella sua vita sociale. Ma quando incontra Kate a una festa, subito qualcosa fa click e si rende conto di aver trovato proprio la sua anima gemella. Hanno tantissime cose in comune. È un colpo di fulmine e dice finalmente mi è successo qualcosa di straordinario, non ho perso quest'occasione, ho trovato proprio la persona che fa per me. Ma purtroppo Kate muore. Kate muore, Jake è devastato, però succede una cosa strana, continua a tornare indietro nel passato, a rivivere più o meno lo stesso periodo di tempo quando Kate era ancora viva, prima dell'incidente e quindi si rende conto di avere una possibilità di tentare di evitare la sua morte. Il problema è che ogni volta che cerca di impedire la morte di Kate muore qualcun altro o succede qualcosa d'altro che rovina la vita a un'altra persona, a lui cara. Quindi diventa combattuto perché comunque nessuna azione che lui cambia è senza conseguenze e giocare con il destino si rivelerà fatale per qualcun altro. Quindi lui vuole cercare di salvare tutti i suoi cari ma allo stesso tempo anche di salvare Kate e sembra non essere possibile ma non intende arrendersi. Anche qui come in Prima di Domani di Lauren Oliver anche in questa Ogni Prima Volta c'è quindi il tema della morte il tema di voler salvare qualcuno o qualcosa tornando indietro nel tempo grazie a un loop temporale. Questo però è un romanzo un tantino più leggero di Prima di Domani e adesso passiamo proprio ai romanzi che non hanno nulla di drammatico ma dove il loop temporale è praticamente una scusa per un romanzo romance normale molto molto leggero e vi cito Provaci ancora The Do-Over di Lean Painter qua abbiamo come protagonista una ragazza studentessa modello a cui piace avere il totale controllo della sua vita le piace fare delle liste con gli obiettivi che vuole raggiungere di giorno in giorno e pensa di avere grazie a questo la vita perfetta ma il giorno di San Valentino succede un disastro scopre che il suo ragazzo che riteneva perfetto in realtà la sta tradendo e lo scopre nel modo peggiore in pubblico quando va letto disperata quella sera succede qualcosa di strano il giorno dopo si risveglia e continua a rivivere il giorno di San Valentino il giorno più brutto della sua vita lei cerca di salvare il salvabile ma desidera anche uscire da questo loop temporale finché non succede qualcosa di strano man mano che i giorni passano anche se è sempre lo stesso giorno si rende conto che dietro al suo compagno di banco con cui non ha mai avuto in realtà un grande rapporto si nasconde qualcosa di più e conoscendolo meglio pian piano si innamora di lui quindi da un certo punto di vista vuole uscire da questo loop temporale ma da un altro punto di vista ha paura che se uscirà da questo loop temporale non avrà più quel rapporto che è riuscita a costruire col suo compagno di banco e quindi abbiamo veramente in questo caso un loop temporale che serve solo per aprire gli occhi alla protagonista su dove sia il suo ragazzo ideale che non era quello che credeva ma era più vicino a lei di quanto può pensare romanzo carino leggero young adult dove il loop c'è ma è veramente al servizio di una trama abbastanza lineare abbastanza prevedibile ma comunque sempre piacevole da leggere su questo tipo di romcom che utilizza il loop temporale ci sono tantissimi esempi ve ne cito altri due di autrici abbastanza famose che sono inediti in italiano ma magari prossimamente potrebbero essere pubblicati anche in italiano perché sono usciti da poco in America uno è In a Holidays di Christine Lauren dove la protagonista ha un orribile giorno di Natale e alla fine continuerà a riviverlo ancora e ancora e ancora finché non capirà appunto che la persona giusta per lei non era quella che credeva non migliorerà se stessa questo è molto simile al giorno della della marmotta ma in stile romcom molto piacevole e poi c'è anche See you yesterday di Rachel Solomon è ambientato all'università dove abbiamo una ragazza che è stata delusa dalla sua esperienza delle scuole superiori dove era un po' una loser insomma una ragazza assolutamente non popolare ma anzi che veniva presa in giro che desidera cominciare benissimo la sua esperienza all'università e viverla al meglio perché finalmente vuole diventare più popolare vuole avere successo eccetera ma purtroppo il primo giorno di università viene umiliata da un compagno di classe durante la lezione di fisica e a un party quella notte dà fuoco a un altro ragazzo per fortuna il giorno dopo quando si risveglia è tornata indietro nel tempo al suo primo giorno di università e ha la possibilità di ricominciare tutto da capo quindi all'inizio è una cosa che apprezziamo ma dopo un po' comincia a sentirsi intrappolata in questa giornata che non finisce mai per fortuna scopre che anche il ragazzo che l'ha umiliata durante la lezione di fisica è intrappolato in questo loop temporale e cominciano a collaborare assieme anche se all'inizio si trovavano antipatici per tentare di uscire da questo loop finiscono anche per innamorarsi ma se non riusciranno a uscire dal loop la loro storia naturalmente non avrò un futuro perché loro non avranno un futuro e c'è anche un altro romaggio che vi voglio citare in edito in italiano che è A quantum love story di Mike Chen anche questa è una romcom ci sono queste due persone che si conoscono proprio all'interno di un loop temporale ok ma purtroppo tendono a perdere la memoria e la cognizione di essere dentro a questo loop se lui se lo ricorda lei se lo dimentica e se lei se lo ricorda lui se lo dimentica i due si sono innamorati ma a volte non si ricordano di esserlo e rivivendo continuamente questi quattro giorni di questo loop ancora e ancora ancora cercano di uscire cercano però allo stesso tempo anche di vivere una vita insieme finché le memorie glielo glielo permettono finché sanno di stare assieme ma man mano che il loop va avanti lei la protagonista femminile si rende conto che lui sta perdendo sempre più memorie ed è sempre più difficile ricordargli della loro storia e del fatto che si trovano in un loop quindi forse il tempo sta per scadere devono assolutamente uscire per salvare la loro storia d'amore per quanto riguarda il genere fantasy invece a mia memoria mi ricordavo un libro che avevo letto quando ero molto giovane che si intitolava Il cerchio del tempo di Tanit Lee dove abbiamo una giovane sacerdotessa di un paese di un regno fantastico che quando inizia a esercitare il suo ruolo in uno sperduto santuario viene contattata da un misterioso ragazzo dai capelli grigi che ruba una delle sacre reliquie che lei deve custodire la protagonista quindi dovrà inseguirlo e andare in una terra dominata da uno stregone crudele dove scoprirà che lei e questo giovane sono stati maledetti da questo stregone a vivere in un lupo temporale che li tiene intrappolati e di cui però i due non ricordano sempre di fare parte e quindi lei ha vissuto questa stessa avventura ancora 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 ma continuano a cadere sempre preda della morte o lui o lei e non riescono a uscirne e lei deve trovare il modo per uscire da questo cerchio del tempo per uscire da questo lupo e da questa maledizione e forse la risposta sta in un sacrificio diverso dal solito il libro è un libro per ragazze o almeno veniva pubblicato così nella Gaia alla mia epoca è un romanzo breve o un racconto lungo come lo volete considerare ed era molto molto carino e il loop era utilizzato molto molto bene ma esistono molti altri esempi di romanzi fantasy dove comunque c'è un loop temporale però difficilmente il loop temporale è al centro di un romanzo fantasy il romanzo fantasy ha sempre molto molto di più e magari il loop è solo manifestazione di qualcosa di magico all'interno di questi romanzi un sortilegio un maleficio una maledizione spesse volte è collocato così nei romanzi fantasy se volete chiedetemelo nei commenti vi farò degli altri esempi fantasy così a memoria ho inserito nella lista il primo romanzo che mi ricordavo di questo genere con un loop che fosse ma abbastanza centrale e mi è venuto in mente questo ma ci sono tantissimi altri esempi allo stesso modo io in questa lista inserisco un unico esempio di romance storico con un loop temporale che è The Redemption of Philip Tain di Lisa Bern inedito in italiano ma sicuramente ne esistono degli altri esempi in questo romanzo abbiamo Philip il solito avezzacollo libertino che viene costretto da una sua zia o cugina adesso non mi ricordo a recarsi in un piccolo paesino inglese per fare un discorso a un ricevimento no e quindi lui prevedeva già di annoiarsi di stare in campagna non gli piace preferisce stare in città con le sue amanti eccetera ma il peggio è che continua ad addormentarsi e poi risvegliarsi e a rivivere lo stesso giorno in questo paesino ancora e ancora e ancora e quindi non solo è intrappolato in un loop temporale ma è intrappolato in un loop temporale nell'ultimo posto dove vorrebbe essere intrappolato se non altro però il fatto di rivivere continuamente questo giorno gli dà la possibilità di studiare una strategia che gli faccia conquistare l'unica donna che secondo lui è alla sua altezza che si trova in questo paesino che è l'intelligentissima Miss Margaret Allen che si trova in questo paesino per delle ricerche su un romanzo su un libro che sta scrivendo e che ha colpito la sua fantasia però lei si rifiuta di cedere a tutte le sue avance quindi di giorno in giorno lui cerca di conoscerla sempre di più per studiare la strategia giusta per conquistarla e portarsela a retto e man mano che i giorni passano e che la conosce sempre di più però ha sempre più rispetto per lei e quel sentimento che era partito semplicemente come voglia di conquista si trasforma in qualcosa di più ma esistono comunque tantissimi altri esempi di romanzi con loop temporale all'interno di tantissimi generi letterari diversi quello che vi ho presentato è una lista veramente che vuole essere solo un assaggio di tutto ciò che esiste in letteratura con loop temporali c'è veramente di tutto soprattutto se sapete leggere in inglese e non vi fermate solo i libri in italiano c'è veramente tutto un mondo da esplorare fatemi sapere se volete altri esempi altri titoli di altri tipi di romanzi e sarò felice di farvi un'altra lista su quest'argomento che a me personalmente piace molto tra l'altro qui si conclude comunque il mio video di oggi se vi è piaciuto cliccate mi piace qui sotto e iscrivetevi al mio canale per non perdere i miei prossimi video e aiutarlo a farlo crescere ciao e buona lettura grazie a tutti